Ma salve a tutti amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare come al solito vi ricordo che in descrizione potete trovare tutti i miei profili social, Instagram, Twitter e gruppo Facebook, trovate il link PayPal qualora voleste sostenere il canale, vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale e adesso partiamo. E adesso partiamo perché domani ci giochiamo una buona fetta di stagione. Il Milan giocherà in trasferta contro il Rioave il playoff di Europa League e da questa partita ragazzi è inutile che ci giriamo intorno, dipenderà tutto. Dopo quella partita capiremo se faremo due competizioni o tre, dopo quella partita capiremo se faremo altri colpi di mercato perché un colpo è praticamente sicuro e sarà il difensore. Ma nel caso in cui, e lo speriamo tutti, il Milan passasse anche il playoff di Europa League potrebbero arrivare anche altri colpi, magari a centrocampo. Perché ve lo dico sinceramente, per l'esterno, secondo me, fatto aughe, non arriveranno altri acquisti. Quindi, a questo punto, secondo me, ci potrebbe essere magari un tentativo in extremis per Bakayoko, chi lo sa. Il fatto sta che il Milan comunque domani giocherà in Portogallo senza Ibra, senza Rebic, e va verso la conferma per il ruolo di prima punta Lorenzo Colombo, che dovrebbe appunto partire dal primo minuto con Rafael Leao pronto a subentrare. Per il resto, la formazione, teoricamente, dovrebbe essere la migliore possibile, quindi con Donnarumma in porta, Calabria, Chier, Gabbia e Teo Hernández in difesa, Chessy e Ben Nasser a centrocampo, Castiglieco, Cialanoglu e Salemekers alle spalle di Lorenzo Colombo. L'unico ballottaggio sembrerebbe essere quello tra Brian Diaz e Castiglieco. Quindi, a questo punto, insomma, vediamo come andrà a finire. Nel frattempo, il Milan, come ho già detto, comunque un difensore lo farà, a prescindere dal risultato della partita di domani. Al momento, il nome favorito, il nome che sembra favorito su tutti, è quello di Tomiyasu del Bologna. Allora, la reazione dei tifosi milanisti sui social non è stata, diciamo, delle più allegre. È chiaro che tutti si aspettavano un giocatore di livello superiore, soprattutto perché si era parlato di Milenkovic, si era parlato di Fofanà, e ci sta questo, perché comunque è chiaro, ognuno è libero di giudicare il giocatore come vuole. Però, secondo me, è sbagliato definire Tomiyasu un acquisto fatto a caso, perché ho sentito anche questo. L'acquisto, in verità, è totalmente logico, perché parliamo di un giocatore che per caratteristiche sarebbe molto simile al Milenkovic tanto cercato durante questa sessione estiva, perché comunque, ragazzi, ripeto, parliamo di un difensore molto simile. Milenkovic, ok, fisicamente è più possente, ma siamo lì. Parliamo di un centrale che può fare anche il terzino, quindi un difensore teoricamente molto duttile e abituato al campionato italiano. Secondo me Milenkovic ha più talento di Tomiyasu. Inutile che ci nascondiamo, Milenkovic in prospettiva sembra essere un giocatore migliore. Però anche Tomiyasu, secondo me, non è da buttare. Allora, io non sono chiaramente un tifoso del Bologna, però l'anno scorso ho comprato Tomiyasu al fantacalcio. E si sa qual è la mente malata di noi fantallenatori. Nel momento in cui abbiamo un giocatore al fantacalcio, arriviamo a seguire anche partite di squadre di cui non ci importerebbe nulla. E io, il Bologna, l'anno scorso l'ho seguito per qualche partita. Ho visto quelle con il Milan, ho visto quelle con la Juve, con l'Inter, con la Roma. Le più importanti, insomma. E Tomiyasu, anche giocando teoricamente in un ruolo che non era il suo, ovvero quello di terzino destro, mi ha sempre fatto una buona impressione. Secondo me è un giocatore molto intelligente e molto furbo. Quindi, non so, secondo me non è proprio un acquisto da buttare. Non sarebbe, insomma, un nome tirato lì a caso. E' chiaro, non è il giocatore su cui investirei chissà quali somme. Però, al prezzo giusto, visto che mancano anche due o tre giorni di mercato, e visto che ti serve comunque un giocatore pronto, secondo me ci può pure stare. Questo è quello che dico. Poi, ovviamente, aspettiamo sviluppi, vediamo come andrà a finire. Ma ragazzi, questo è. Niente, questo video finisce qui. Io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento a domani, visto che domani ci sarà la partita. E niente, sempre Forza Milan, e ci vediamo ad un prossimo video. Grazie per la visione. Grazie.